Tranquilli, non sono impazzito, non sono passato al lato oscuro dei no-coiner, ma semplicemente vorrei portare un po' di buonsenso spiegando 5 motivazioni, 5 presupposti sbagliati che non dovrebbero portarti a comprare bitcoin, non dovrebbero portarti a investire in bitcoin. Ci vuole un certo livello di consapevolezza, ci vuole un certo livello di conoscenza e bisogna sapere quello che si sta facendo. Quindi se ti ritrovi in queste 5 cose che sto per dire, stai fermo e non comprare assolutamente bitcoin. Prima di iniziare con l'elenco vi faccio la stessa domanda a voi, ovvero qual è per voi un motivo per non comprare bitcoin, ovvero un presupposto sbagliato che se sentiste dire da qualcuno voi gli rispondereste stai fermo, non comprarlo, stai sbagliando tutto. Ditemelo nei commenti che così ci confrontiamo. Buonasera amici criptoinvestitori e ben ritrovati a tutti quanti. Oggi facciamo un video un po' diverso dal solito. Se di solito ci concentriamo sui lati positivi, sul valore, sul perché può valer la pena acquistare bitcoin, oggi facciamo l'esatto opposto. E quindi riflettiamo quando è il caso di non farlo. E vi do 5 ragioni. Partiamo dalla prima, nonché la più importante. Se non sai che cos'è bitcoin, non comprarlo, non investirci. Ci sono tanti luoghi comuni, tanti pregiudizi, soprattutto legati al quanto si può guadagnare, al fatto che se in passato ha avuto una certa performance, allora ce l'avrà anche in futuro. Fermati subito. Nulla di tutto ciò è detto, perché non si può prevedere ciò che accadrà in futuro. Pertanto prima di acquistare bitcoin, studialo, conoscilo, vedi qual è il suo reale valore, cerca di capirlo per davvero. Se non sai di che cosa si tratta, pensi che sia, ma sì, qualcosa di virtuale, che non capisco tanto bene, ma sale sempre, quindi quasi quasi lo compro anch'io. C'è un problema di fondo. L'investimento va preso sul serio, l'acquisto di un asset va preso sul serio. E se non si capiscono i fondamentali, quindi il valore reale di tale asset, è molto meglio fare un passo indietro e non acquistarlo. Semmai mettersi a studiarlo, mettersi a comprenderlo. Ci sono una numerosità di fonti a disposizione di tutti. Io ho provato a fare il mio col mio corso gratuito che trovate qui sul mio canale YouTube, dove vi spiego cos'è e come funziona bitcoin e le criptovalute. Oppure ci sono dei libri, dei testi molto ben fatti, molto più dettagliati, come The Bitcoin Standard oppure Mastering Bitcoin, che vi permetteranno di capire davvero che cos'è bitcoin, che cos'è il mining, che cos'è il proof of work, qual è il ruolo che bitcoin può avere nel mondo e nell'economia. E solo dopo aver capito queste cose, possiamo farci la fatidica domanda. Bitcoin per me ha senso, ha valore oppure no? Se la risposta è sì, allora lo acquisterò e deciderò quanto e come espormi. Se la risposta è no, ci starò bene alla larga. E questo è proprio il punto numero due. Se non credi nel suo valore, non comprarlo, perché non ha senso acquistare bitcoin se per te è un qualcosa che non ha nessun tipo di scopo o è un qualcosa di puramente speculativo. Perché detenerlo? Non ce n'è nessun tipo di ragione. Se io penso che è solo un giochino che prima o poi scoppierà una bolla, i tulipani e quant'altro, di certo non lo comprerò. E anche se magari mi viene in mente, ma magari sale, non sale, va a finire che diventa uno scommettitore e non è certo un'operatività sensata, non è certo un'operatività di investimento. Quindi questo è il secondo motivo per starne alla larga. Passiamo ora al terzo molto importante motivo, che è il non potersi permettere di assumersi i rischi legati alle caratteristiche di bitcoin, in particolare alla sua volatilità. La caratteristica principale di bitcoin è che è un asset volatile, è un asset incerto, possiamo dire. Noi che ci crediamo, abbiamo le nostre ragioni per farlo, possiamo pensare che in futuro avrà una sempre maggior adozione e un sempre maggior ruolo nel mondo, ma non possiamo esserne certi, ok? E questo significa assumersi un rischio, il rischio di sbagliarsi, il rischio che nel frattempo magari il suo valore può moltiplicarsi di tre volte, scendere del 90%. Guardate il suo storico, i drawdown che ha avuto in passato. Siete disposti a sopportarli? Quanto siete disposti a sopportarli? Con quanto capitale? E questa è un'altra domanda da farsi in maniera molto introspettiva e profonda. Perché se siamo poco avvezzi al rischio, poco tolleranti al rischio, o semplicemente non possiamo assumerci rischi, perché abbiamo dei debiti, abbiamo delle entrate precarie, e ci conviene tenere liquidità piuttosto che investire il nostro capitale, meno che meno lo vorremmo investire su un asset volatile. Per questa ragione, in questo specifico caso, è meglio stare ben alla larga da Bitcoin. Quarta motivazione, me le sto leggendo, lo confesso, non sei in grado di custodirlo in sicurezza. Se non conosci le basi della custodia di Bitcoin, chiave pubblica, chiave privata, come gestirle, come creare un wallet e metterlo in sicurezza, se si vuole detenerli su un exchange, come tenere in sicurezza l'exchange, sapere che rischi si corrono a detenere i propri Bitcoin sull'exchange, tutte queste nozioni sono fondamentali. Perché altrimenti va a finire che sì, ho capito tutto di Bitcoin, sì, ho capito che posso tollerare il rischio legato alla sua volatilità, ma non so come conservarlo. L'ho acquisto e poi faccio un errore, perdo le credenziali, perdo le chiavi private, le inserisco dove non le devo inserire e perdo tutto. E quindi direi che siamo ancora peggio, è ancora peggio rispetto a vedere il suo prezzo crollare di parecchio. Fortunatamente, anche riguardo al tema della sicurezza, ci sono tanti, tanti video a disposizione, tanti contenuti gratuiti e non, e non è che bisogna diventare esperti di cyber security. Basta avere certi comportamenti orientati al minimizzare alcuni rischi, che come vedrete, basta che cercate, ripeto, su YouTube, su Google, trovate tantissimi contenuti, vi renderete conto che non è così impossibile. Ma non sottovalutate mai la sicurezza di qualcosa come Bitcoin, le cui transazioni sono irreversibili e pertanto una volta persi, sono persi per sempre. Quinto e ultimo punto, oggi ho fatto veramente un video non lungo, incredibile, credere che ti farà diventare ricco. Cioè, se credi che compri Bitcoin e hai la gallina dalle uova d'oro, stai tranquillo che stai sbagliando. Cosa significa? Non vuol dire che il prezzo non salirà, non vuol dire che magari davvero succede che si diventa ricchi, però non è quello lo scopo, nel senso non dovremmo partire con questo presupposto, perché altrimenti diventa una scommessa. La scommessa e l'investimento non vanno d'accordo. Se si ha investitori, bisogna ragionare da investitori e quindi guardare al valore, guardare a una crescita sostenibile nel lungo termine. Sicuramente non ci sarà una crescita repentina e ampia come quella che c'è stata negli anni scorsi in così poco tempo. Pertanto non bisogna puntare a quello e meno che meno bisogna andare a cercare le piccole altcoin a bassa capitalizzazione perché abbiamo perso il treno Bitcoin. In altre parole, non dovremmo concentrarci sul prezzo, sul poterci arricchire in fretta, perché è l'obiettivo sbagliato. Dovremmo concentrarci sul voler includere Bitcoin nel nostro portafoglio di investimenti e come farlo contenendo i rischi, contenendo la volatilità complessiva e guardando a lungo termine. Non dire lo compro e speriamo che qualcosa succeda, che si ricada appunto in una serie di luoghi comuni completamente errati e completamente fuorvianti per l'investitore e il detentore di Bitcoin, ma ripeto, concentrarsi sul suo vero valore, su quello che può significare per noi detenere Bitcoin in portafoglio, se ha senso oppure no, tutto quello insomma che abbiamo detto finora. Vi pongo a questo punto la domanda a voi, ovvero cosa giungereste a queste 5 motivazioni? Cioè se qualcuno vi dicesse un qualcosa che vi spinge a dirgli fermati, non comprare Bitcoin, cosa potrebbe essere questa cosa? Fatemelo sapere nei commenti che così ne discutiamo e ci confrontiamo. Vi auguro una buona serata e alla prossima!